Vedete come viene lì? Queste le vengono aperte Sì, queste sono nuove però Sono punti staccati L'unica cosa sarebbe stato Punti staccati ma l'unica cosa sarebbe stato poter fare un pochino Queste due sono uguali? Un po' di ridocaine al 10% Un po' di ridocaine al 10% Ma sopra come riempitivo Ma lo chiede il pedale? Sì, il pedale È una cosa che trova anche i pedali Vedete molto di un pochino Vedete molto di un pochino Adesso che ho aperto la prima pellicina Che succede che penetra l'anestetico E quindi non ho bisogno della prosa Premi, premi Vedete che c'è ancora Banchi della roba dentro Adesso sento forse un pochino meno Un po' di ridocaine Un po' di ridocaine Un po' di ridocaine Se voi considerate che per fare un ursantelesmo Devi fare un'attentura di anestetico Devi tagliare Devi asportare Devi cucire Questo è tutto qui Un po' di ridocaine Un po' di ridocaine Non c'è bisogno di lavorare così Quanto ci sono? 700 700